Bella a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Ragazzi, finalmente torniamo con un nuovo video per quanto riguarda le tecniche di movimento avanzato in code, lo small jumpshot. Ragazzi, mi prendo due minuti, oltre che a ringraziare ovviamente tutti quanti voi per il supporto delle persone con cui ho collaborato e che ho ringraziato nei miei precedenti video, mi prendo due minuti per parlarvi dei futuri progetti di questo canale, perché abbiamo già esplorato slight cancel, bunny hop, dropshot e jumpshot e rimangono solamente le due tecniche tra le più importanti, che sono appunto small jumpshot, quella di oggi, e poi rimane il double jump. Ovviamente fatemi sapere voi sotto nei commenti se volete portare tutte le tecniche di movimento avanzato, perché ce ne sono tante. Una è lo strafe jump, che è un salto che si va a effettuare in corsa in modo laterale, per saltare da tetto a tetto, comunque tra ostacoli molto distanti, impossibile da fare altrimenti effettuando un salto frontale. Quindi fatemi sapere sotto nei commenti se volete portare tutte le tecniche di movimento avanzato, anche perché in italiano non ci sta molto su tutta sta roba, oppure se preferite spostarci verso altro. Ovviamente ragazzi sotto in descrizione trovate i link delle tecniche di movimento che abbiamo già trattato, vi basta iscrivervi, in ogni caso ci sono tanti altri video interessanti, ci sta anche la playlist. Ma detto questo ragazzi, dovete aiutarmi e farmi sapere semplicemente queste due cose. La numero uno, come abbiamo già detto, se volete che porto tutte le tecniche di movimento avanzato che riesco a trovare, oppure se ci possiamo fermare a quelle più importanti, e su cosa spostare i futuri video. Numero due, non sapendo se la maggioranza dei mie iscritti, al momento siamo a 200 e passa, se giocano in maggioranza da paddo, da mouse e tastiera, su cosa concentrare i futuri video. Perché ragazzi? Perché in mancanza di idee mi focalizzerò sulla mia piattaforma, ovvero su mouse e tastiera, quindi sense, aim trainer e sense dinamica. In merito alla sense dinamica, che è appunto un video di cui parleremo meglio in futuro, è una sense particolare che utilizzano molti pro player e che si ottiene tramite software appunto per PC. E permette di avere una sense che aumenta al muovere del mouse più velocemente o al diminuire della sense muovendo il mouse in modo più lento. Il modo del tutto graduale, impercettibile, ma che ci va a dare una precisione assurda, sincronizzando proprio la memoria muscolare col movimento che poi noi andiamo effettivamente ad applicare col mouse. Quindi flick, colpi di frusta, il mouse deve fermarsi dove il nostro cervello ha previsto che si fermi. Quindi ragazzi, fatemi sapere sotto nei commenti. Ultima chicca, anche questa volta vi farò vedere le impostazioni sia da pad che in mouse e tastiera. Andiamo a ripassare molto velocemente le impostazioni ragazzi. Sono sempre impostazioni old school, d'accordo ragazzi, da pro, quindi che sostanzialmente vi costringe a fare tutto voi con semplicemente la bravura nella pratica del muovere i tasti in una determinata sequenza. Altrimenti è impossibile, o comunque molto più difficile, applicare le tecniche di movimento avanzato che abbiamo trattato come drop shot, jump shot, bunny hop, eccetera. Quindi queste sono quelle da mouse e tastiera, adesso andiamo a vedere quelle da controller. Queste sono quelle da controller, invece ragazzi parliamo sempre di impostazioni old school e vi ricordo che sul canale trovate il video sul mio personale allenamento. Un allenamento che comunque è ispirato, un allenamento che fanno con Tribot molti pro player e che vi invito a fare una volta che vi siete copiati bene queste impostazioni per appunto prenderci la mano ragazzi. Non c'è niente di male ad allenarsi con Tribot, lo fanno molti pro player e trovate ovviamente il link in descrizione. Io adesso vi faccio scorrere molto lentamente le impostazioni da pad, ovviamente potete anche mettere in pausa il video per quanto riguarda appunto il visionarle con più calma ragazzi. Dunque ragazzi adesso andiamo a provare finalmente in game lo small jump shot. Quello che avete visto era uno small jump shot in sequenza quindi adesso invece andremo appunto a provarlo per quanto riguarda le applicazioni che poi troviamo in game quando appunto andiamo ad applicare lo small jump shot. Allora sostanzialmente lo small jump shot da due applicazioni. La prima è quella di bypassare l'animazione quando saliamo su un oggetto facendo semplicemente questo. Quindi premendo scivolata più salto riusciamo a salire su un oggetto. Premendo scivolata più salto si fa praticamente questo. Quindi si sale su un oggetto in modo molto più rapido. Guardate bene ragazzi che questa tecnica funziona sostanzialmente con ostacoli oggetti che sono alti la metà del giocatore. D'accordo? Perché se noi andiamo a farlo così riusciamo a salire subito bypassando l'animazione. Se noi lo andiamo a fare su un oggetto che è già leggermente più alto come vedete lo sale molto più velocemente. Perché l'animazione cambia praticamente da scavalcata da arrampicata come vedete. Perché se come voi avete visto i miei precedenti video sicuramente ragazzi se non l'avete fatto andateli a vedere questo è uno jump shot. D'accordo? Classico. Questo invece è lo small jump shot. Quindi uscire premendo scivolata e salto in procinto di un angolo. Ovviamente non è la stessa cosa che fare un bunny hop. E tra l'altro sia il bunny hop che il jump shot si effettua quando c'è un ampio spazio di manovra. D'accordo? Bunny hop è la stessa cosa. C'è un ampio spazio di manovra. In uno spazio molto angusto per non correre il rischio che magari noi facciamo questo con uno jump shot che non serve in questo caso perché corriamo il rischio di finire fuori strada. Si fa semplicemente scivolata e salto immediatamente e come vedete dovete diventare bravi a tal punto che praticamente qua sta la vera maestria. Nel senso di finire praticamente con, quando noi andiamo a fare lo small jump shot in questo modo, praticamente con metà mirino fuori e metà mirino dentro. In modo da non esporci del tutto, d'accordo? Quindi in modo da poter beccare il nemico ma allo stesso tempo non farci spottare dal nemico. Quindi perché se noi andiamo a fare questo, cioè ci fanno fritti, ma se noi andiamo a fare questo già è diverso. Soprattutto dentro le case, quando dobbiamo andare a scovare le persone dentro i cessi o che sono comunque molto angusti gli spazi, quindi appartamenti, scale, androni dei palazzi, ecco qua in questo caso non conviene andare a fare un jump shot o un bunny hop che ci va appunto ad esporre ulteriormente. Ma siccome noi non sappiamo cosa c'è al di là di questa visuale, come noi non sappiamo cosa c'è qui praticamente, andiamo a fare un bel small jump shot. Quindi in questo modo andiamo a metterci in una posizione di vantaggio, tanto quanto basta da poter piccare qualcuno senza esporci. Quindi ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto, come sapete vi ricordo quei due quesiti che vi ho fatto inizio video, di rispondere, di commentare, like, iscrizione, commenti. E tra l'altro ragazzi seguitemi anche sulla piattaforma viola, perché io streammo praticamente tutti i giorni, dalle 21 fino a mezzanotte luna, quindi potete venire per giocare con me, semplicemente per farci una chiacchierata o per supportare la streaming. Per il resto ragazzi io vi mando un bacio, ragazzi, al prossimo video, ciao a tutti.